Sa, 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 1, 2, 3, prova, sa, sa, mi sentite? Buongiorno a tutti, sapevamo che questo momento sarebbe arrivato, mica pensavate di continuare a fare niente tutto il giorno, tutti i giorni, giusto? Per cui direi che possiamo iniziare con questa nuova modalità di didattica a distanza e trattare un argomento di cui abbiamo parlato a lungo, ma è arrivato il momento di andare un pochettino più a fondo e questo argomento è Adobe Premiere, sigla! No, scherzo, non c'è nessuna sigla, per cui iniziamo con la lezione, buon lavoro! Direi che per incominciare possiamo fare un piccolo ripasso sulle cose che già conosciamo di Adobe Premiere. Innanzitutto sappiamo che è un software per editing video sia lineare che non lineare, a differenza di After Effects che invece è un software di editing soltanto non lineare. Premiere infatti permette di accostare anche più clip, audio o video all'interno della stessa traccia, video o audio, mentre After Effects si comporta in maniera molto più simile a Photoshop e sovrappone ogni risorsa che io importo all'interno della mia composizione in maniera verticale, impedendo di fatto che ci siano due risorse all'interno della stessa linea temporale. Per questo si parla di editing soltanto non lineare. Premiere ci consente di farli entrambi. In ogni caso, come già abbiamo imparato l'anno scorso, la prima cosa che bisogna fare quando si inizia un nuovo progetto video non è avviare Premiere, ma bensì creare la mia nuova cartella progetto. E questa nuova cartella progetto la chiamerò con un grande sforzo di fantasia nuova cartella progetto e via che si va. All'interno di questa cartella io salverò tutte quante le risorse che accumulerò strada facendo per fare il mio montaggio video. Adesso che ho creato la cartella posso avviare il software e vedere che cosa mi si propone. Versione aggiornata al 2020 ragazzi, tanta roba! La prima cosa che mi chiede di fare Premiere è di salvare il progetto. Per cui clicco su nuovo progetto e decido dove salvarlo. Poiché ho creato la nuova cartella specificamente per questo scopo, premo sul tasto sfoglia, vado in cerca della cartella che ho appena creato, eccola qui, nuova cartella progetto, la seleziono e dopodiché assegno un nuovo titolo a questo mio progetto e con uno sforzo in mani di fantasia lo intitolerò il mio primo progetto. E via che si va. Bene, questa dovrebbe essere grosso modo la schermata che vi compare al primo avvio di Premiere. È una schermata che io reputo molto pesante, quantomeno per il numero di tab ridondanti che sono presenti all'interno dell'area di lavoro, per cui prima di iniziare a fare qualsiasi cosa facciamo in modo di sfoltire l'area di lavoro. Questa clip, questa fascia di strumenti qui in alto non mi servirà, per cui faccio chiudi pannello. Tutte le operazioni che sto facendo servono perché con schermi più piccoli, come quello che sto utilizzando io, ma anche in generale può tranquillamente capitare anche a voi, è il caso di ottimizzare lo spazio, quindi tenere le tab che ci servono veramente per un editing video, lasciando evidentemente alle tab secondarie di poter essere chiuse ed eventualmente riaperte alla necessità. Allora direi che la tab sorgente l'ha sposto da questa parte. Vedete cosa è successo in questo modo? Sono riuscito praticamente ad affiancare, quindi a creare un nuovo riquadro di fianco a quello esistente, trascinando la tab in modo, e trascinandola sopra a questo trapezio in verticale che si viene a creare. In questo modo sono in grado di affiancare le tab tra di loro, per cui quello che vi chiedo di fare è di mettere sorgente al centro, metadati posso chiudere, mixer clip audio posso chiudere, controllo gli effetti lo metto dietro a sorgente. Dopodiché progetto è la finestra principale in cui poi importerò tutte quante le mie risorse grezze, la trascino a sinistra di sorgente. Library is posso chiuderlo per il momento, browser multimediale posso chiuderlo, info posso chiuderlo, effetti lo gradisco dietro a progetto. Eccoci qua. cronologia non mi interessa, marcatori non mi interessa. Non mi interessa nemmeno questa barra degli strumenti, per cui posso chiuderla, e invece questo che è il livello master dell'audio, posso tranquillamente rimpicciolirlo. in questo modo qua ho sfoltito abbondantemente tutta quanta la mia area di lavoro e sono finalmente pronto a fare qualcosa. Poiché non voglio ogni volta che faccio un avvio del software dover ricominciare da capo con togliere tutte le tab che non mi servono, decido di salvare lo spazio di lavoro così com'è. andando su finestra, spazio di lavoro, salva come nuovo spazio di lavoro. E posso tranquillamente chiamarlo, non lo so, spazio di lavoro utile. Oggi poca fantasia per i nomi. E infatti vedete che sui vari spazi di lavoro io mi sono creato il mio preset preferito massimo che è assolutamente identico a quello che ho appena creato. Ecco fatto. A questo punto posso iniziare a importare i file grezzi. Ma prima ancora di importare i file grezzi io ricordo a tutti che è necessario cliccare con il tasto destro, fare nuovo elemento e creare una nuova sequenza con le impostazioni che a me interessano. E adesso facciamo un ripasso anche di questo. Posso cliccare col tasto destro, dicevo fare nuovo elemento sequenza oppure posso cliccare su nuovo elemento e fare sequenza. Le due operazioni si equivalgono come vi ricorderete senz'altro su Premiere ci sono molti modi per fare per fare la stessa cosa. Avanti tutta dunque tasto destro, nuovo elemento, sequenza e mi si apre effettivamente la finestra dei predefiniti. Cosa vuole Premiere? Ok eccoci qua. Allora mi si apre la finestra dei predefiniti tra cui io posso scegliere le caratteristiche della mia sequenza. Ora se ci ricordiamo non è obbligatorio uno specifico preset tra quelli che il software ci propone. Io consiglio sempre questo qui AVCHD 1080p 25 ma ce ne sono molti altri che vanno bene. La cosa fondamentale del preset che io devo andare a scegliere è che sia evidentemente in 1080p. 1080 si intende il numero di pixel per ogni colonna del mio video. L'aspect ratio è 16 noni e i pixel sono 1920x1080. P sta per progressivo che si contrappone a interlacciato. Sono due tipologie di scansione del singolo fotogramma diverse. L'interlacciato è più afferente al mondo dell'analogico dove sostanzialmente ciascun fotogramma veniva scansionato per righe alternate mentre progressivo è sostanzialmente uno standard che è nato e si è consolidato nel mondo del digitale e consiste nella scansione progressiva per l'appunto per cui è comprensiva di tutti quanti i pixel per ogni singolo fotogramma. Quindi 1920x1080p progressivo 25 sta per 25 fotogrammi al secondo. Noi siamo in un sistema di codifica e decodifica europeo per cui aderiamo al sistema PAL che funziona per l'appunto a 25 fotogrammi al secondo. In America e nei paesi anglosassoni vige il sistema NTSC che lavora invece a 30 fotogrammi al secondo o 29,97 che dir si voglia per le trasmissioni televisive e web mentre è fisso a 24 fotogrammi al secondo per le trasmissioni cinematografiche per le produzioni cinematografiche. Bene, tutto questo per dire che verifico che i miei pixel che le mie impostazioni siano adeguate un'ultima impostazione a cui devo fare molta attenzione è che i pixel siano quadrati io ho bisogno che i pixel siano quadrati esistono anche pixel anamorfici al momento non vado così tanto nel dettaglio ma c'è bisogno che voi li evitiate noi utilizziamo pixel quadrati. Pronti? Via che si va. A questo punto ho creato la mia sequenza e la timeline infatti mi dice che è operativa così come è operativo anche lo schermo. Queste linee che vedo sullo schermo si chiamano margini di sicurezza e posso attivarli o disattivarli con il click del tasto destro attivandoli per l'appunto con questa spunta o disattivandoli. A cosa servono? Servono a garantire le aree di visibilità del mio video sui vari supporti. Nascono ancora per l'appunto dal mondo analogico dove gli schermi a tubo catodico si mangiavano parecchio del bordo del mio video in ogni caso devo fare attenzione anche nel mondo odierno che tutte le mie grafiche e le parti importanti del mio quadro dell'immagine siano all'interno del rettangolo più esterno. Laddove invece il rettangolo più interno si riferisce per l'appunto ai vecchi schermi analogici. In ogni caso quindi se devo mettere una grafica farò in modo che sia all'interno di quest'area qui. D'accordo? A questo punto sono pronto per editare un video. Qual è il problema? Non ho assolutamente un video da editare per cui facciamo un piccolo patto. Adesso utilizzo il video che ho utilizzato come intro di questa video lezione tanto per fare un piccolo ripasso di tutti i comandi di base. Dopodiché iniziamo a fare un esercizio un pochino più sostanzioso. Ok? Per il momento disattivo i margini di sicurezza. Per importare una risorsa grezza all'interno del mio progetto ho bisogno innanzitutto che questa risorsa grezza sia all'interno della cartella in cui si trova anche il mio progetto. Quindi salvo e vado a pigliarmi il video che ho registrato prima che si trova nella mia cartella lezioni a distanza. Eccolo qua. Lo copio e lo incollo nella mia nuova cartella progetto che è la stessa cartella dove si trova anche il progetto a cui sto lavorando. D'accordo? A questo punto vado su Premiere posso o cliccare con il tasto destro e fare Importa oppure fare File Importa oppure fare doppio clic sulla finestra progetto. Evidentemente se non premo Importa non importa. Ok la vecchia battuta che non funziona mai probabilmente. Comunque porto dentro al mio progetto la clip che ho girato prima a questo punto posso decidere varie operazioni la prima è che posso trascinarla direttamente all'interno della mia timeline e Premiere mi avvisa attenzione la clip non corrisponde alle impostazioni della sequenza desiderate modificare la sequenza per farla corrispondere alle impostazioni della clip a questo punto voi cosa rispondereste mi auguro tutti che rispondiate che volete mantenere le impostazioni esistenti della clip perché succede questo perché voglio che vi mettiate in testa questa cosa qui lo ripeto per quanto sia già stato detto abbondantemente l'anno scorso se non sono io a decidere le impostazioni che voglio per la mia sequenza e quindi sono le stesse impostazioni che poi utilizzerò anche per l'esportazione del mio montaggio finale succederà che Premiere assorbe le impostazioni con cui quella singola clip è stata registrata e potrebbero non essere quelle che io voglio per cui anche se ci sono modi più veloci o più automatici per far scegliere al computer quali siano le impostazioni del video io desidero che voi in quanto tecnici sappiate sempre quali attributi dare alla sequenza prima dell'inizio di un lavoro specifico d'accordo? in questo caso qua quindi faccio rivedere io prendo e trascino la clip e mi dice sei sicuro vuoi modificare le impostazioni della sequenza perché si adeguino alle impostazioni di questo specifico video o preferisci mantenere le impostazioni esistenti io dico di mantenere le impostazioni esistenti guardate che cosa succede che si crea una cornice nera intorno al video che ho fatto perché succede questo? perché se io vado sulle proprietà di questa specifica clip vedo che è in 1280 pixel per 720 laddove io invece ho deciso che la mia sequenza sia in full hd quindi 1920 per 1080 questo è il motivo per cui si creano le cornici nere potrà tranquillamente capitarvi che se fate dei video con il cellulare succeda questa cosa qui se volete zoomare in maniera automatica cioè adattare la dimensione della vostra risorsa alla dimensione complessiva della sequenza non fate altro che fare click con il tasto destro e fare ridimensiona a dimensione fotogramma e il gioco è fatto giuro che non potevo trovare un video di riferimento più brutto di questo ma immagino che usciranno parecchi meme e questo non può che allietare la nostra permanenza lontani dall'ambiente scolastico vediamo dunque un attimo a questo punto se io ho la mia risorsa in timeline e voglio decidere di tagliarla o di adattarla a una lunghezza specifica ho come al solito più possibilità se premo il tasto C il mio cursore si trasforma in una lametta tramite questa lametta io sono in grado di tagliare il video a pezzi se poi premo il tasto V la mia lametta torna a essere il cursore tradizionale con cui io posso selezionare e cancellare le singole clip che non mi interessano le cancello con il tasto cance o con il tasto backspace per cui il primo modo che io ho per tagliare delle clip video è lo faccio rivedere trascinarle direttamente in timeline ma ridai e mantieni le impostazioni esistenti ridimensiona dimensione fotogramma wow facce sempre più assurde premo il tasto C per far diventare il cursore una lametta e via che si taglia taglio quello che mi interessa e il resto dopo aver premuto il tasto V per far tornare il cursore alla sua normalità ecco che vado a cancellare tutto quello che non mi interessa se premo su uno spazio vuoto in timeline questo si seleziona e sempre tramite cance o backspace sono in grado di cancellarlo tutto chiaro fin qua mi auguro di sì gli altri metodi che ho per portare un pezzettino di video all'interno della timeline sono i seguenti faccio doppio clic sulla mia risorsa grezza e in questo modo mi si apre all'interno della tab sorgente in questo caso qua ho la possibilità di vedere il mio video esattamente come l'ho girato tramite i tasti i e o della tastiera oppure tramite vediamo allargando un po' se si vedono oppure tramite queste due parentesi sono in grado di definire un marker di inizio i mark in e un market un marker di uscita mark out in questo modo qua decido soltanto un pezzettino del mio video che ho girato se voglio trascinare sia audio che video all'interno della timeline non faccio altro che trascinare questo bel faccione in timeline in questo modo qua e di nuovo mantengo le impostazioni esistenti se invece voglio trascinare soltanto il video vado sull'iconcina video e trascino se voglio soltanto l'audio clicco solo su audio e trascino vedete come la differenza tra questa modalità e questa modalità è che in questo caso audio e video si muovono assieme in questo caso qua invece ho i due la risorsa audio e la risorsa video che sono scollegate tra di loro se io ho bisogno di scollegare due risorse che sono collegate come in questo caso ho varie modalità come al solito clicco con il tasto destro e faccio scollega in questo modo qua diventano indipendenti ok se ho bisogno di ricollegarle le rimetto insieme e faccio collega ed ecco che sono di nuovo assieme se io le scollego le sfaso e poi le ricollego il software mi avvisa attenzione guardate bene mi sta dicendo attenzione che il video è di meno 14 fotogrammi prima dell'audio e mi sta dicendo dell'audio attenzione che l'audio ha più 14 fotogrammi rispetto al video per cui mi sta avvisando che rispetto alla mia risorsa di partenza video e audio sono sfasati ecco fatto altro modo che ho per spostare il video e mantenere fermo l'audio è bloccare con il lucchetto la traccia video e spostare l'audio oppure bloccare la traccia audio e spostare il video oppure ho anche questa modalità se io premo su questa su questa iconcina che si chiama selezione collegata e la disattivo sono in grado di spostare ogni video e ogni audio in maniera indipendente se invece la premo sono in grado sempre di spostare video e audio assieme a seconda di come sono stati registrati posso riprendere la stessa clip posso fare mark in e mark out per un'altra un'altra sezione del mio video e portarla in timeline cancello come vi ho fatto vedere prima le aree vuote però ho creato e ho creato il mio primo video credo che anzi facciamo una piccola parentesi sugli effetti allora prendiamo sentite mi sono stancato del mio faccione per cui facciamo che come nuovo elemento metto un contatore universale ecco abbiamo tutti tutti di che guadagnarci in questo modo ecco fatto ecco anche in questo caso posso tagliare la clip come mi pare spostarla se voglio copiare e incollare la clip penso che non ci sia bisogno di dirlo faccio command c e command v e poi posso annullare lo spazio tra le varie clip se voglio aggiungere un effetto su questa clip vado sul rack degli effetti e digito l'inizio dell'effetto che mi interessa per esempio luminosità e contrasto lo trascino sulla clip ed ecco che mi compare sul rack del controllo effetti in questo modo posso aumentare o diminuire la luminosità aumentare o diminuire il contrasto oppure posso mettere un bel vediamo controllo rgb se non conosco nello specifico gli effetti in questo caso posso attivarli o disattivarli vedete io posso impostare un effetto e poi tenerlo attivato o disattivato esattamente come farei con l'occhietto per un livello di photoshop per intenderci cos'altro dire intanto la ventola del mio Mac sta impazzendo se io non conosco con precisione l'effetto che mi interessa non faccio altro che aprire la cartella effetti video e andare in cerca di quello che mi interessa d'accordo? un'altra cosa importante evidentemente sono le dissolvenze o le transizioni in generale mentre gli effetti si applicano alla singola clip le transizioni servono a portarmi da una clip alla successiva guardate vado a recuperare il mio faccione per essere un pochettino più chiaro in questo modo qua io mi tengo il mio ecco yeah tengo il mio countdown facciamolo partire da 4 altrimenti mi annoio e copio e incollo tante volte questa roba qua ok divertente no? in ogni caso come faccio se io voglio fare in modo che vediamo da questa clip dalla clip del countdown si passi direttamente alla clip più avanti in cui sto facendo lo scemo seleziono entrambe le clip e tengo premuto shift o maiuscolo e il tasto D in questo modo qua viene applicata la dissolvenza incrociata che è sostanzialmente la transizione predefinita di premiere visto? si passa da così ah così tengo in muto l'audio così non sentiamo rumori molesti eccoci qua vedete? ho applicato una dissolvenza incrociata per eliminarla non faccio altro che selezionarla e con backspace la cancello seleziono e con backspace cancello seleziono e con backspace cancello e avanti di questo passo posso raggiungere altri tipi di transizioni sempre dal rack effetti andando su transizioni video in questo caso qua le trovo tutte quante posso anche digitare l'inizio del nome come dissolvenza qui vedo che ho tanti tipi di dissolvenze posso tranquillamente inserirle nella mia timeline se voglio rendere la dissolvenza più lunga o più corta posso fare o doppio clic sulla dissolvenza stessa e qui decidere la durata della transizione oppure mi posso avvicinare sulle maniglie e allargare o ridurre la velocità della transizione d'accordo? oltre alle dissolvenze ci sono come immaginerete molti tipi di transizione tra cui che ne so la dissolvenza a cerchio in cui succede questa roba qua e ve ne sono molte altre vi consiglio di usarle sempre con molta molta parsimonia perché le transizioni video sono molto pesanti al massimo quando lo ritenete necessario utilizzate una dissolvenza incrociata tradizionale o al massimo un jump cut tipo questi per il momento penso che sia tutto penso di avervi annoiato a sufficienza mi raccomando tenetevi in allenamento con le funzioni di base perché molto molto breve iniziamo a fare sul serio buono studio ragazzi e ricordatevi si fa quel che si può con quello che si ha ciao